Sono molto contento, è stata una gara complicata, difficile, più che altro per come era la stagione, per come era iniziata la stagione all'aperto. Ho finito quella indoor nel migliore dei modi e iniziata quella outdoor nel peggiore dei modi, però siamo qua, abbiamo vinto, questa era la parte più importante, essere qua e dimostrare di essere più forti, lo abbiamo fatto e quindi sono molto contento. Con la mia storia io già in passato e anche questa volta vorrei far capire che purtroppo non è sempre tutto perfetto, non va sempre nei migliori dei modi, ma che non bisogna mai arrendersi, bisogna sempre cercare di guardare il lato positivo e cercare di tirare fuori tutte le nostre capacità e le nostre possibilità. Per me è stata una stagione peggiore che ci potesse mai essere, però alla fine siamo riusciti a vincere un titolo europeo dopo tutte queste problematiche e quindi vorrei far capire che bisogna solo lottare, continuare a spingere, continuare a sognare e poi tutto arriva.